Due giorni dedicati alla letteratura femminile grazie alla rassegna Ti presento un'amica. L'iniziativa, promossa dal Comune di Capanuri, dalla Commissione Pari Opportunità e curata dalla casa editrice Carmignani, si svolgerà il 13 e 14 luglio ad Artemisia. L'obiettivo, è stato spiegato nella conferenza stampa di presentazione in Comune, è quello di avvicinare le donne del territorio alle realtà che si muovono intorno al genere femminile, presentando nuovi punti di vista e modi di pensare dalla letteratura alla storia fino alla medicina che tengano conto e valorizzino l'approccio diverso delle donne al mondo. L'idea è quella di portare qui sul territorio una serie anche di saperi, di letteratura, di autrici, di realtà che gravitano attorno all'ambito femminista e femminile proprio per portare il territorio a conoscere delle cose che altrimenti è un po' difficile andare a reperire diciamo qui in loco e quindi ecco perché non portarle qui. Il sipario si alza giovedì 13 luglio alle 18 con la presentazione del libro di Simonetta Simonetti Storia del lavoro femminile, la manifattura tabacchi di Lucca, una fabbrica di pubblica utilità edito da Tra le Righe Libri. Una rassegna importante che ospitiamo ad Artemisia, è importante perché si tratta di valorizzare il genere femminile attraverso la letteratura ma anche un momento di riflessione su tematiche molto importanti che sono quelle del lavoro, quelle anche della disabilità e anche quelle della medicina di genere. Quindi un momento di approfondimento non solo per le donne ma per le famiglie perché ci saranno anche laboratori per bambini, ci sarà anche una sezione sempre al femminile dedicata all'artigianato locale.